Si delineano le prime qualificate ai quarti di finale della Sponsor League in attesa degli ultimi verdetti di venerdì, ultima giornata della fase regolare. Ieri sera Raso Antonio ha superato 8 a 2 Mancin, i verdi eliminati si sono presentati senza giocatori in panchina, questo oltre all'infortunio del portiere nel finale di gara ha influito sul risultato. Raso Antonio dovrà dunque attendere il match di venerdì tra Novara Calcio e G-Sport Mirato per capire chi incontrerà ai quarti di finale. Press Release con Molli e Ferrari per il gruppo B ha regalato la prima vittoria agli ospiti che superano i giornalisti con il punteggio di 5 a 2. La compagine guidata da Renato Ambiel riesce a marcare i primi due gol della propria avventura in questa prima apparizione alla Sponsor League. I giornalisti sono l'unica squadra a non aver mai subito una sanzione disciplinare, nessun cartellino sventolato a Maddaluno e compagni. Il gruppo C ha visto trionfare Sea Express che ha pareggiato con DR per 2 a 2, i campioni in carica si ricandidano per un'altra edizione da protagonisti.